Perché parlare della natura in Palazzo Vecchio? Perché i decori offrono veramente un panorama straordinario in questo senso dovuto all'interesse specifico del sovrano che trasformò Palazzo Vecchio nella sua residenza ducale a partire dal 1540. Parlo di Cosimo I dei Medici. Vado a condividere con voi il mio schermo proprio per presentarvi ufficialmente il volto di quest'uomo e ascoltiamo cosa dice di lui un diplomatico veneziano in visita a Firenze. Or chi dirà delle erbe e dei semplici ne ave egli, intendendo Cosimo I dei Medici, una grandissima cognizione e ne ha i giardini pieni facendone gli tenere una particolare cura con grandissima sua dilettazione in farli piantare, governare e sperimentare avendo appresso di sé omeni eccellentissimi di questa professione. Questa passione di Cosimo e fra l'altro anche quella del figlio non è semplicemente l'amore per la natura. Cosimo si fece anche proprio promotore a livello ufficiale, quindi come sovrano, di una branca della scienza che stava proprio sbocciando come disciplina. È stato definito questo il periodo del rinascimento della botanica, botanica che finalmente assorge a materia maiuscola e in questo periodo Cosimo si circonda di professionisti. Fece venire all'Università di Pisa come lettore e poi anche a Firenze per iniziare la creazione dell'orto dei semplici, il giardino botanico che ancora oggi esiste e può essere visitato, Luca Ghini, Ghini che non soltanto era un esperto della materia ma che aveva un'idea innovativa, quella di raccogliere le piante nelle varie fasi della crescita e anche nelle sue varie parti, quindi dalla radice al semi al frutto e di conservarle essiccate. Quindi una creazione di erbari non solo disegnati, perché spesso questi elenchi di piante potevano avere anche dei ritocchi non perfetti dovuti all'interpretazione di coloro che disegnavano, ma proprio di far vedere le piante come esse sono nella natura, nella parte essiccata, quindi reale. Questo erbario che li costituì non è arrivato fino a noi, anche se all'Università di Firenze è conservato quello di un suo successore cesalpino. Queste sono veramente delle collezioni di erbe di preziosissimo valore a livello di studio, anche per comprendere varietà che magari oggi non esistono più. Quindi in primo luogo per Cosimo un interesse scientifico, un interesse da mecenate e duca, che ha cura anche di conoscere le piante medicamentose che serviranno alla buona salute dei suoi cittadini. Ma quello che colpisce è che quest'amore si riflette nella decorazione di Palazzo Vecchio. Dice ad esempio il nostro Vasari che il pittore Bacchiacca, andato a servizio del duca Cosimo perché era ottimo pittore in ritrarre le sorte di animali, fece a sua eccellenza uno scrittoio pieno di uccelli e di diverse maniere da erberare, condusse tutto divinamente. Questa immagine che vedete è il piano ammezzato, il cosiddetto mezzanino di Palazzo Vecchio. Attraverso una scala si accede a questo terrazzino e qua si intravede uno stanzino nascosto. Ahimè, questa è una zona non visitabile di Palazzo Vecchio anche quando il museo è aperto. È stato recentemente restaurato, purtroppo non è in buonissime condizioni, ma si cela in questo stanzino, una delle stanze segrete come venivano chiamate, i luoghi privati dei principi, un vero erbario ed elenco di natura sulle pareti. Come vedete si alternano uccelli, pesci volanti e erbe. Nonostante il concetto generale dell'iconografia del terrazzino e dello scrittoio sfugga, anche perché gran parte della decorazione in me è molto depauperata e in alcuni casi proprio perduta, è invece affascinante e studiabile la collezione soprattutto delle piante che si ritrovano sulle pareti. E c'è una particolarità. Alcune di esse appaiono come ritratte dal vero, altre invece appaiono come viste in un erbario. Quindi schiacciate bidimensionali, addirittura in alcuni casi appese per l'essiccazione a testa in giù. Giusto per vedere qualche esempio, qui vediamo una pianta più riconoscibile da molti, la salvia. Questa invece è una radice, la scorzonera. Vediamo un'erba comune che all'epoca veniva usata anche nelle insalate, questa che è dipinta capovolta, questa è la borraggine, questa che penso che molti la conoscano, il nome ufficiale scientifico è la borrago officinali, da questo tipico fiore azzurro e usata ancora oggi in alcune ricette per torte salate, come interno di ravioli di pieni o nelle zuppe. Questa invece è un'altra pianta abbastanza diffusa e che veniva usata anche come pianta ornamentale fino dal Medioevo, è l'aquilegia. Guardate con quanta cura il pittore ha riprodotto da i bocci, gli stami, i tepali. Dall'altra parte, quindi andiamo sull'altro sguancio, vediamo invece un'altra serie di erbe di cui, in un dettaglio, un'erba comune e l'achilea milefolium, questa accanto, che appaiono decisamente in fase, questa proprio appesa a cespo d'erba in essiccazione, mentre l'achilea milefolium, pianta medicamentosa, è schiacciata, pronta per l'erbario, o copiata ovviamente dall'erbario. Significa quindi che il duca ha un particolare interesse anche a fornire al suo pittore di corte degli esempi da poter copiare perché interessato alla riproduzione fedele, alla veridicità di questi elementi. Il duca non è il solo a appassionarsi alle piante, per altro motivo anche la moglie, donna Leonor de Toledo, ha una passione per la natura. In questo caso, secondo una diffusissima maniera di creare all'interno dei palazzi nobiliari, quindi in città lontane dalle delizie della campagna e dal ristoro del verde, dei veri e propri giardini pensili, che sono conosciuti come orticini o terrazzini verdi. Ci scrive il Riccio nel suo manuale dell'agricoltura del fine 1500 che bisogna, si hanno a fare bei giardini pensili e tutti abbino buon'aria, aiole, fonti, spalliere e vasi e così vi si possi andare in detti giardini da più stanze di detta casa. Gran conforto a tutti coloro che abitano, che possono andare dalla casa negli orti giardini. Oggi la parola orto richiama qualcosa di diverso, ma si intendeva proprio la coltivazione in vaso di erbe aromatiche che servivano anche a fare da schermo dei cattivi odori della città che esalavano dalle strade e anche altri tipi di piante, magari ornamentali, come la rosa, la rosa alba, la rosa gallica o la damascena e qualche albero piccolo, soprattutto della specie dei cotogni. Poi avremo modo di parlare meglio di che cos'erano questi cotogni. I terrazzini originali di Eronora non ci sono pervenuti, ma vi faccio un esempio di terrazzino un po' più tardo che si trova comunque nella zona dell'appartamento della Duchessa, vicino al camerino di Bianca Cappello, che riporta una decorazione a trompe l'oeil che simula proprio l'essere in una loggia con sullo sfondo un bel paesaggio di campagna che è la perfetta cornice per una zona di piante e c'erano anche delle comodissime sedute, vedete? e qui probabilmente lo spazio per la fonte d'acqua, quindi un micro giardino casalingo. Le pitture, anche dei luoghi più ufficiali, non dimenticano mai la natura. Sembra quasi un titolo maiuscolo una volta che l'occhio si abitua a cercarla all'interno delle sale. Una delle stanze che riserva più sorprese è la Sala delle Udienze. Prima di entrarvi virtualmente vorrei ricordare che il Duca è a conoscenza anche di moltissime piante ed animali che vengono dal nuovo mondo. La Sala delle Carte Geografiche forse qualcuno di voi l'ha già esplorata nella mezz'ora d'arte che le fu dedicata mi sembra l'estate scorsa è una ricchissima enciclopedia non soltanto dei paesi e dei loro regnanti e delle loro città ma anche della varietà naturale. Doveva esserci nella stanza anche proprio una sezione dedicata alla flora e alla fauna di cada un paese che poi non fu portata a compimento ma era già nel concetto dell'idea per Cosimo. Quindi non ci sorprenda di trovare mescolate con le rape dell'orto e gli agli anche della frutta o piante che vengono già dal nuovo mondo dalle Indie occidentali ancora non si chiamano Americhe. Questa è la porta della sala delle udienze quindi un luogo assolutamente pubblico la decorazione è dedicata alle imprese del giusto condottiero romano Furio Camillo sulla porta la statua rappresenta la giustizia ma il pittore Cecchino Salviati Francesco Salviati fa sfoggio di una enorme maestria in questa ricchissima, lussureggiante ghirlanda che abbraccia tutto il portale e ci conduce all'interno quasi in una raccolta stagionale di tutti i possibili elementi per la nostra tavola. Guardate ad esempio partiamo dall'alto delle albicocche dei fichi porri semplicemente questa potrebbe essere una pera oppure una cotogna ecco queste famose cotogne sono frutti giallognoli che assomigliano a mele costolute ma non è un tipo di mela o di pesca perché oggi noi diciamo le pesche cotogne ad esempio era una specie botanica a parte dalla quale probabilmente per incrocio si sono ottenute le altre questi frutti che erano sacri alla Dea Venere erano un segno di amore e forse forse sono i famosi pomi delle esperidi è un frutto che crudo non è mangiabile ma veniva usato invece per la preparazione di marmellate e gelatine le cosiddette cotognate eccoci qui catapultati nel mondo nuovo un bel grappolo d'uva altre mele piccole probabilmente a zeruole e scendendo di nuovo radici saliamo dall'altro lato e troviamo moltissime radici carciofi un bel cavolo cappuccio limoni cedri cetrioli come vedete una grandissima varietà agli di nuovo e cipolle e a livello invece di fauna anziché di flora vediamo due pappagalli un pappagallo cinerino americano e una bellissima esemplare di ara col ciuffo ritratti con una verità che fa sospettare che il pittore lo abbia veduto o che abbia potuto consultare delle iconografie molto attente sappiamo che a corte c'era un pappagallo e anche una scimmia regalati alle loro eccellenze in un'altra ghirlanda sempre nella sala delle udienze troviamo anche ups scusate quello che oggi considereremo un portafortuna il peperoncino questi sono piccoli peperoncini americani ci vuole un occhio attentissimo ma vi sfido alla vostra prossima visita a cercarlo rape soprattutto vediamo ancora una pannocchia e anche ciliegie guardate aggrappolo di nuovo un cavolo cappuccio sussine un grosso cedro bitorsoluto e anche elementi più umili come il miglio abbiamo parlato dell'amore di Eleonora della duchessa per la natura e quindi non sorprende che una delle sue stanze private una delle sue preferite sia proprio la cosiddetta camera verde chiamata così non per il verde che oggi vediamo alle pareti che ahimè va a coprire un restauro impossibile perché il decoro che le copriva è perduto completamente ma la sappiamo che la stanza evocava un po' come i terrazzini che abbiamo visto prima l'idea di un'aria aperta di una vista su un lago degli alberi un tempietto alla greca per fortuna nostra invece è sopravvissuta alla volta questo è uno degli ambienti che la duchessa fa realizzare subito appena traslocata diciamo così quindi tra il 1540 e il 1545 il pennello di queste grottesche naturali è quello di Ridolfo del Ghirlandaio è un vero e proprio tripudio dove non dobbiamo pensare alla logicità del tutto quindi possiamo vedere una gazzella accostata a un orso quindi animali che vengono da paesi completamente diversi non c'è una illusione di un luogo reale ma di nuovo questa profusione quasi enciclopedica di conoscenza forse anche una delizia per l'occhio che non si stanca mai giorno dopo giorno vivendo in questo luogo di scoprire piccoli dettagli fanno da padroni gli uccelli ce ne sono di enormi varietà qui si trovano di nuovo pappagalli americani andiamoli qua eccole qua ecco lo giro scusate che è a capo in giù eccolo sia questo loro rosso blu che dall'altra parte un piccolo cotorres un inseparabile verde ma ci sono anche numerosissimi animali delle cacce vedremo poi come la cincia allegra la beccaccia per esempio le ghirlande anche sono ricchissime di frutti prendo ad esempio proprio questa qui anche frutti che oggi più raramente sono sulle nostre tavole sono i frutti del bosco nespole corbezole sorbe ghiande noci e nocciole pine fruttifere uva milagrana le nespole non dovete immaginarle come i frutti moderni che sono arrivati nell'ottocento dal Giappone erano frutti più leggermente più stondati e duri quando venivano raccolte asprissimi dovevano essere fatti naturali sul con pazienza prima di poterli mangiare e siccome era l'ultimo frutto della stagione l'ultimo raccolto si credeva che significassero la saggezza degli anziani che lentamente matura col tempo le le ghirlande non sono quindi legate a una stagione precisa come vedete ma di nuovo ci vogliono mostrare la ricchezza di una varietà una particolarità qui vediamo una nocciola che è un po' diversa da quella a cui siamo abituati oggi le nocciole comuni che scientificamente si chiamano corilus avellana sono diffuse oggi ma non lo erano tanto all'epoca dove invece esisteva questa varietà con involucro lungo chiamate proprio nocciole lunghe in maniera più familiare una particolarità la vediamo in un'altra sezione del soffitto cambio immagine e vediamo dall'altra parte giriamo giriamo il nostro sguardo sempre vicino ai nostri pappagalli una pianta dai fiori pallierini di colore che è stata identificata abbastanza sicuramente come uno dei primi esempi di zucchina americana esistevano anche delle zucche nostre poi le vedremo in un altro ambiente ma questi sono i primi frutti nuovi un'altra curiosità è questa piccola chiocciola scusate questa chiocciolina sembra sia arrivata a Firenze in Toscana grazie allo spostamento di materiale edile dalla Sicilia verso la nostra Toscana perché questa lumachina questa chiocciola credo sia più corretto chiamarla così non è nativa della Toscana ma viene dalla Sicilia volevo farvi vedere anche l'attenzione incredibile ad esempio ai dettagli la presenza sia di edera normale quella che siamo abituati a vedere rampicare sui muri che è un'edera non fruttifera cioè un'edera che non fa frutto mentre intorno alla zona centrale vicino all'orso vediamo vediamo un esempio di edera fruttifera proprio con i piccoli grappoli di bacche hanno una differenziazione nella foglia così ci spiegavano gli esperti botanici direttamente dalla camera verde scusate dimenticavo una cosa bellissima perdonatemi la presenza anche di questo piccolissimo grillo e di una farfalla che era molto comune e che ancora oggi se fate un po' d'attenzione nelle campagne potete rivedere che si chiama Macaone una delle più grandi farfalle europee che non vengono quindi dall'oriente dicevo che dalla camera verde si entra in un altro ambiente raffinato che è la cappella della duchessa Eleonora fatta realizzare più o meno negli stessi anni ad opera di Agnolo Bronzino ha una volta decorata con i santi quindi dedica ovviamente alla religiosità del luogo ma i quattro spicchi della volta sono arricchiti da quattro bellissime ghirlande dove nuovamente vediamo un'attenzione al particolare di natura ricchissimo vediamo ad esempio oltre a delle nespole delle castagne dei ricci con le castagne all'interno di nuovo il melograno le pere seguiamo un'altra ghirlanda che poi vedremo meglio nel dettaglio troviamo qui dei grossi cedri vitorzoluti ciliegie limoni uva nocciole di nuovo e qui entriamo in un dettaglio molto particolare in primo luogo questo in cui vediamo una varietà d'uva siciliana l'uva pizzutella immagino che qualcuno di voi la conosca e la apprezzi e un frutto tipico del bosco la corbezzola la quale dicono che va mangiata con cautela perché può comunque danneggiare un po' la digestione anche se il frutto è buonissimo e quindi si rischierebbe di mangiarne come le ciliegie in quest'altra ghirlanda vediamo invece ai piedi del puttino oltre a un cetriolo una zucca fiasco è la zucca la genaria che è una delle zucche del vecchio continente ed era quella che si poteva apprezzare sulla tavola prima che arrivassero le le zucchine americane i germogli di questa zucca vengono usati nelle zuppe ancora oggi in qualche ricetta tradizionale soprattutto in Sicilia mi dicevano un'altra stanza che sorprende per l'attenzione alla natura è stata recentemente restaurata a Palazzo Vecchio è la sala degli elementi in un tripudio di storie mitologiche che rappresentano la teogonia del mondo le traviazioni ci sorprendono per delle ghirlande che riportano radici fiori e frutte in profusione calendule garofani aquilegge e molti d'altri accanto non poteva mancare la sala dedicata alla dea della fertilità opi in cui quattro riquadri del soffitto sono dedicati alle quattro stagioni in questo caso il pittore che è della scuola di Vasari perché queste sono stanze affrescate e concepite proprio da Giorgio Vasari ha posto un po' meno attenzione botanica alla rappresentazione e invece ha tenuto più di conto la stagionalità stagionalità che ahimè oggi rischiamo di non ricordare più perché ormai siamo abituati alle celle frigorifere alle serre all'importazione da tutto il pianeta e quindi soprattutto le nuove generazioni non hanno più l'idea che a primavera si mangia questo piuttosto che quello perché è meglio mangiare frutta e verdura di stagione e non solo è meglio era proprio l'unica cosa possibile una curiosità vediamo a primavera oltre alle rose nelle mani della fanciulla una Irlanda di fiori e sottolineo fiori e fra questi fiori ci sono dei carciofi che sono dei fiori vengono quindi considerati edibili ma sono fiori e generalmente venivano serviti in tavola non fra le verdure ma con la frutta vediamo l'autunno mele e uve ho saltato l'estate scusate eccola qua con le sue spighe di grano e l'inverno dove quello che resta sono i frutti che nascono sottoterra radici scusate radici rape carote e pastinaca questo piccolo dettaglio appare in uno dei terrazini di palazzo lo trovavo delizioso probabilmente una cicogna con questo serpente in becco mi faceva piacere condividerlo con voi ci stiamo avviando e me verso l'uscita scendiamo la scala dal terzo piano verso la sala dei cinquecento verso l'appartamento degli dei terrestri e alziamo gli occhi alla decorazione della scala di leone decimo anch'essa ricchissima di natura guardate questa splendida pergola e addirittura anche la costola dove sono rappresentate delle canne lacustri qui la mano è di Marco Marchetti da Faenza vediamo una pianta che si intreccia a un'edera e questa pianta fa dei piccolissimi fiorellini colore paglierino e dei baccelli con frutto dentro secondo gli esperti potrebbe trattarsi della viccia un po' meno riconoscibili sono qui gli uccellini altrettanto fantasiosa è la cupola del lampadario la volta di curva della scala dove ci sono mescolati alle siepi anche animali fantastici però c'è una piccola curiosità potrebbe essere che uno di questi insettini sia il famoso formicaleone un insetto le cui larve sono ferocissime al punto di essere considerate quasi dei leoni per l'aggressività e nella parte inferiore della scala un'altra pergola splendida dove si librano rondini un picchio rosso pappagalli farfalle cinciallegre petti rossi un po' meno riconoscibili questi due animali che dovrebbero essere uno scoiattolo anche se è un po' spelacchiato e un coniglio invece più puntuale la rappresentazione della rosa e soprattutto del gelzomino non potrei chiudere questa carrellata senza parlare del fiore maiuscolo per Firenze il giglio forse molti di voi sanno che noi chiamiamo giglio un fiore che un giglio non è ma è l'iris pallida dalmatica nella sala di leone decimo in una scena di guerra questa è l'assalto alla rocca di san leo troviamo due rappresentazioni di iris proprio l'iris pallida dalmatica e anche il giglio da cui discende il giglio di Francia che scientificamente è conosciuto come iris pseudacorus normalmente cresce vicino ai corsi d'acqua e infatti qui c'è la rappresentazione allegorica del mare atlantico su cui si affaccia la rocca di san leo spero di avervi fatto venire la voglia di tornare ad alzare il naso ad aguzzare la vista la vista dentro palazzo vecchio vado un attimo a controllare se avete lasciato qualche domanda in chat qualcuno saluta qualcuno dice compilato questionario lode in tutto grazie mille grazie di cuore se c'è qualche domanda postatela adesso chi ha dipinto la camera verde ridolfo del ghirlandaio a questo punto se non avete altre curiosità possiamo aprire i nostri microfoni ringrazio tutti di cuore ringrazio sofia e il nostro sponsor che hanno permesso di andare in onda diciamo così con questa iniziativa chi l'avesse perduta o avesse perduta qualcuna delle precedenti ricordo che potete vederle sul canale youtube dell'associazione muse accendete pure i microfoni salutiamoci e diamoci gli auguri di Pasqua buonasera buonasera buonasera